Eccoci arrivati alla parte dedicata agli aggiornamenti sull'economia, un po' anche sulla finanza che ci riguardano anche da vicino perché piccole cose possono modificare completamente tanti asset strategici molto importanti di paesi, di realtà significative ma anche di intere economie oltre che delle aziende piccole e medie del nostro territorio. Stefano Zara, ben ritornato. Allora, vediamo un po' una provocazione che però di fatto è una notizia, tanti soldi nei conti non spesi un po' in generale nei paesi europei ma anche in Italia, in due mesi cosa è successo? Sono dati diffusi dal Financial Times, è comunque dati ufficiali di BCE, quindi Banca Centrale Europea che ha visto, che ha riscontrato che marzo 2020 rispetto a marzo 2019 le liquidità nei conti correnti è a livelli mai visti prima. in Francia nei conti ci sono depositi, ci sono dati di marzo per 20 miliardi contro i 3,8 dell'anno precedente, sempre marzo 2020 su 2019. In Italia un po' meno ma 16,8 miliardi contro una media di liquidità dell'anno precedente di 3,4 e Spagna 10 miliardi contro una media di 2,3. Ovviamente soldi non spesi dalle famiglie per effetto del lockdown, per effetto che comunque non avevamo né modo né tempo né possibilità di poterli spendere. Magari il tempo c'era e che non c'era la libertà per poterli spendere a parte gli acquisti sul web. Ci sono dati relativi agli acquisti sul web? Ma ci sono, credo che i dati sono accorpati, quindi andrebbero studiati, ma credo ci saranno disponibili già nei prossimi mesi per singolo settore, per tipologia merceologica, ma sarà interessante vedere e su questo abbiamo alcune anticipazioni come le vendite online abbiano superato in alcuni casi le vendite al dettaglio tradizionali degli anni precedenti. Ovvio che di tutto questo avremo misura, dimensione, entità nelle settimane a venire. Comunque tante cose cambiate in pochissimo tempo, anche delle abitudini, per esempio le spese che tanto più vengono fatte molto con la carta, con il conto dell'essere rispetto all'uso del contante, anche se c'è tanto contante in giro, vero? Sì, secondo me è altrettanto vero che basta vedere gli andamenti di borsa, insomma le aziende legate ai sistemi di pagamento, quindi carte di credito, ma anche sistemi tipo Paypal, Apple Pay, sono sulla crescita dell'onda sui mercati finanziari perché evidenziano un trend che il coronavirus ha rafforzato, ma era un trend già ben delineato, ben sostenuto già negli anni precedenti. La moneta plastic money, la moneta elettronica, ma anche i sistemi digitali virtuali di pagamento è una cosa sulla quale tutte le aziende digitali, Apple che da fabbrica che fa telefonini sta diventando società di servizi. Facebook ha la scorsa ottenuta ad aprile, mi pare, tutte le autorizzazioni per poter operare come istituto di credito di diritto irlandese, cioè le grandi piattaforme digitali si stanno un po' perché ne hanno le risorse, un po' perché sono più attrezzate anche di molte agenzie governative per tutto ciò che riguarda Facebook, tra virgolette, stavo per dire la tutela dei dati, la tutela privacy ma è un ossimoro, ma si sta attrezzando per poter essere anche un vettore per poter fare pagamento. Cos'altro c'è di grande cambiamento riscontrabile e che quindi ha delle ripercussioni che non avremmo mai pensato in così poco tempo? Ma che fa riflettere, fa pensare un po' tutta la dinamica, la finanza da questo punto di vista è una cartina di torno al sole formidabile. Non dimentichiamoci che fino al 1970 la finanza non concorreva al PIL, poi hanno visto che le tasse pagate sui muti era tanta roba e si sono resi conto che questo era qualcosa da mettere nel bilancio degli stati. L'intermediazione finanziata iniziata dagli anni 90 poi ha reso esponenziale il ritorno sugli utili e la finanza è diventato un qualcosa che finanzia se stessa. Il dato più eclatante è, prendiamo il listino borsistico, il listino finanziario più importante è quello americano. Le 500 aziende dello Standard & Poor's hanno investito negli ultimi 10 anni in operazioni di riacquisto di azioni proprie qualcosa come 4 trilioni. 4 trilioni è una cifra spaventosa. L'Occidente nei paesi in via di sviluppo ha investito in 50 anni 2 trilioni, che sono dati ufficiali. Le sole aziende americane per riacquisto di azioni proprie ne hanno investiti 4 ma negli ultimi 10 anni. Un trilione è un miliardo di miliardi, si fa fatica anche a scrivere. Che conseguenze ci sono di questo? A questa è una parte, ovviamente, cioè non sono cifre o cose, sono cose anche che hanno un loro perché. Una conseguenza non marginale è il fatto che questo ha sostenuto i prezzi di borsa in maniera clamorosa e continua per almeno 10 anni. È altrettanto vero che ci si deve porre, oltre a 4 trilioni investiti per riacquisto di azioni, ci sono altri 3 che sono stati distribuiti come dividendi. Ma questa è una cosa. Bisogna anche capire che queste aziende poi, chiediamoci anche come possono essere così vulnerabili a, per virgolette, soltanto due mesi di lockdown. Quindi è un sistema, quello dell'impresa, l'impresa globalizzata, che non regge, non lo stop dell'economia, ma nemmeno un rallentamento dell'economia. Poi come quando si va in bicicletta, no, l'eccessivo calo, ti fa perdere l'equilibrio e cadi. È una sostanziale bicicletta che però viaggia, devi viaggiare a velocità sostenuta per poter reggere gli equilibri e le modalità in cui si sostiene. Quindi non è pensabile cambiare le modalità, la velocità delle nostre economie? No, questo si stanno scrivendo trattati, libri, rientra in quella annosa questione che ogni crisi finanziaria viene affrontato della distribuzione del valore, che non può avvenire soltanto con la tassazione. Queste enormi ricchezze impiegate, nel caso di un'operazione di Bayback, che arrivano poi alla collettività soltanto attraverso il canale della tassazione. E quindi quando sostanzialmente si ragiona sul fisco, il fisco ha molte sfaccettature. Uno degli aspetti che va risolti è che le imprese di tali dimensioni, di queste dimensioni, devono ritornare, quello che hanno realizzato in termini di valore, alla comunità su cui sono insediati. Ciò che è un ragionamento un po' idealistico, però molti economisti, citiamo sempre il famoso trattato di Tom Pichetti sull'economia del XX secolo, ha messo in luce che questa fosse una delle discrasie più rilevanti e irrisolte del XX e del XXI secolo. Questa creazione di valore che non sottende però una stabilità di fondo. Noi dobbiamo correre. Ecco perché ogni tweet di Trump determina un riasson, un ribasso del petrolio, le tensioni con la Cina lasciano in ansia i mercati finanziari e i risparmiatori. Cioè questa infodemia alimentata giorno per giorno dall'informazione in un sistema convulso di notizie che arrivano ogni minuto, insomma, è il mondo in cui viviamo. Noi sappiamo che le cose non possono reggersi nel lungo termine, però su questo il rimedio è sempre della politica che crea le regole. Ecco ma a questo proposito della politica, le tensioni che ci possono essere, o che ci sono anzi come un confronto che è abbastanza duro tra Trump e la Cina, potrebbero portare anche a uno scontro oppure ci sarà una mediazione? Questo è l'anno elettorale, quindi Trump non vuole andare alle elezioni con una borsa che va giù, deve risolvere anche un problema di atteggiamento, di immagine legato a mancata tra virgolette attenzione ad affrontare il problema Covid. Non dimentichiamoci che Cina e America sono due giganti che non si combattono a distanza, perché ognuno di loro ha il piede in casa dell'altro. Le 156 principali aziende cinesi sono quotate a Wall Street, 156. La prima della lista è Alibaba che capitalizza a Wall Street qualcosa come 535 miliardi di dollari, vuol dire Enel che è la più grande per capitalizzazioni in Italia, capitalizza qualcosa come 60 miliardi, quindi quasi 10 volte Enel, un 20 volte intesa, un 25 volte unicredit, quindi un'azienda che ha una capitalizzazione immensa, che però vive nell'habitat, nello stagno del nemico capitalista americano. Ma vive perché con questo la fa crescere in ogni caso indirettamente, quindi è anche un bel vivere sostanzialmente, qualora non fosse così non avrebbe grandi prospettive, no? Alibaba si alimenta degli investimenti, dei flussi finanziari che arrivano in quel mercato da tutte le parti del mondo. Ecco, in questo momento, a proposito di investimenti, come stanno andando gli investimenti? Ci sono anche delle nuove formule di investimento che possono presentarsi interessanti? Non so, ci sono dei peer alternativi con il decreto rilancio che possono essere guardati con attenzione. Si è appena concluso da pochi giorni il collocamento dei BTP Italia, che hanno rappresentato comunque un successo in termini di adesioni, 14 miliardi sottoscritti direttamente dalla clientela retail e poi altri 7 da quelle istituzionali. Complessivamente siamo quasi a 22 miliardi di sottoscritti. è la più alta adesione per ciò che riguarda i singoli emissioni. Ovviamente c'è la garanzia BCE, tutto quello che se ne vuole. Ma io vedo delle cose muoversi anche sul mercato delle imprese in termini di emissioni obbligazionali interessanti. Il mondo delle queste forme di partecipazione. c'è un bel libro che mi ricordo degli anni 70 di un economista che è mancato, si chiama Ernest Schmacher. Il titolo è Piccolo e bello, piccolo e bello. È uno dei cento libri che hanno influito più, che hanno influenzato di più il sentire economico dal dopoguerra in poi. E faceva espresso riferimento sul fatto che la piccola media impresa è il tessuto economico più stabile per ogni paese. Ma è vero questo? Ma è vero questo? Perché viene messa tante volte in discussione. Sì, io credo sia vero. Per quello che riguarda la mia esperienza personale diretta. La grande impresa negli ultimi vent'anni è diventata una sorta di medusa a molte teste. Paga le imposte in un paese, insiede in un altro. Cioè, tra delocalizzazione, una fiscalità che non è uniforme nel medio Unione Europea. Questa è una delle cose che devono essere comunque sistemate. È possibile che nella stessa area economica di riferimento ci siano tassazioni diverse o isole di bonaccia fiscale. La tassazione deve essere uguale. Certe vantaggi, tra virgolette, in cambio di insediamenti lavorativi. Io creo posti di lavoro lì perché lì mi fai pagare meno le tasse in un sistema logico che abbia un senso non deve esistere. La grande impresa si prende queste libertà e poi c'è sostanzialmente anche il ricatto in cui, caro Stato, se tu non mi aiuti io chiudo la fabbrica e genero un problema occupazionale. Anche adesso la cosa dei grandi gruppi a sostituire le garanzie dei soci o con le garanzie di sacce e dei fondi di garanzia è evidente. Però su questi problemi, il sottotitolo di questo libro, piccolo e bello, è come se la gente contasse veramente qualcosa. Ma è vero? La questione è che esiste da sempre, esiste da sempre. Le grandi imprese hanno la possibilità di scrivere le regole e quindi è sostanzialmente tautologica. La soluzione non può essere in mano a chi crea il problema. È anche da tanto vero che noi abbiamo una fortuna che è propria del nostro paese. Il 90% del tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese. Questo è la grande ricchezza, la passione dei nostri imprenditori, l'intelligenza, l'intuizione che hanno i nostri imprenditori. Serve una classe politica che crei degli habitat favorevoli, infrastrutture, banda larga, reti di trasporti efficienti. È un sistema fiscale che favorisca chi all'interno del sistema produttivo crea porti di lavoro e crea ricchezza anche per il territorio. Le regole non sarebbero complicate, ma manca, come abbiamo sempre detto, una regia e una visione di fondo che l'instabilità politica che abbiamo da dopoguerra in poi non ha mai consentito. Un progetto per una casa non può essere messo in mano a 50 architetti, già 10 sono tanti, ma comunque va creata una comunione di divisioni per sfruttare un potenziale che è nostro, connaturato al nostro modo di essere. In questo senso io mi sento molto italiano. Ultima cosa proprio un minuto. C'è una grande svalutazione del denaro in questo momento? Cioè in che senso? Cioè il denaro liquido si sta svalutando, rischia di svalutarsi molto, quindi conviene perché per le persone, per i risparmiatori eccetera, pensare a forme di investimento, tanti chiedono di tornare all'oro o ad altre cose, oppure un momento che si prespetta tranquillo? Ci sono voci inquietanti al riguardo? Ma credo che dal momento, per quanto riguarda la mia percezione di uomo che vive della salute del denaro, ecco, è una crisi che potenzialmente poteva avere degli sviluppi, questo parliamo a marzo, del periodo più acuto della crisi preoccupanti. Invece si è, tra virgolette, mitigata, mitigata, gli interventi delle banche centrali, delle agenzie governanti, sono stati utili insomma. Sono stati utili e hanno tranquillizzato, non c'è mai stato un momento in cui hanno perso, tra virgolette, la barra del timore. Ovvio le incognite fanno parte della società in cui viviamo, ma ci sono anche, a me non piace la famosa frase, i problemi vederli come opportunità. No, il problema è un problema, poi cerchiamo di risolverlo, ma le opportunità ci sono e su questo, sull'aspetto legato alle opportunità occorre aprirsi a regole nuove, a un nuovo modo di vedere l'impresa e gli investimenti. Perfetto. Sì, sono cose che magari di cui potremmo parlarne anche la prossima volta. Certo. Allora, noi siamo arrivati al termine Stefano Azzara, grazie di aver fatto questo inquadramento. C'è un consiglio, qualche cosa che vuole aggiungere, che dopo se no ci risentiamo, ci riaggiorniamo presto? Ma, ho visto che le tre regole più importanti, avere calma, cioè l'emotività, il consulente serve perché ha una visione non emotiva delle tue cose. Distaccata. Altrimenti è distaccata. E quindi solo per quello, perché altrimenti anche il consulente in sé è ricco di emotività, ma il consulente serve per non farti fare, che sono quelli di togliere i soldi quando vedi che i mercati vanno giù, eccetera, eccetera. Ma chi è rimasto fermo, chi non ha toccato, chi è rimasto coerente, ha potuto non solo sostanzialmente non perdere, scavallare questa buca profonda che si era creata a marzo, ma anche cogliere delle opportunità, questi trend di crescita che hanno già partito da almeno un paio d'anni, si sono consolidati. Non dimentichiamoci che le bolse americane e soprattutto gli stili tecnologici sono ai massimi. Certo, quindi sono buone prospettive. Parleremo ancora di questo perché siamo arrivati proprio al termine. Quindi calma, avere calma e sangue freddo a questo punto, guardare le cose con oggettività. Stefano Zara, grazie mille, grazie a voi telespettatori. Chiudiamo così con questa intervista il nostro capitolo di diversi approfondimenti di questa serata e naturalmente buon proseguimento e a presto. A domani.